Una città sospesa tra il desiderio di dimenticare voltando finalmente pagina e la necessità di ricordare per non ricadere negli errori del passato. A quasi un anno dagli attentati di Bruxelles, avvenuti nella primavera del 2016, la capitale d'Europa sembra tutt'altro che tornata alla tranquillità. Dopo il terribile risveglio delle 8 del 22 marzo scorso, con le esplosioni all'aeroporto di Zaventem e alla stazione metro di Malbec, il trauma è ancora lontano dall'essere assorbito. Davanti alla metro di Malbec campeggia la scritta Forget and Remember. La città cerca di riacquisire la sua normalità, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. La polizia presidia ogni angolo, l'esercito non è da meno e anche se la priorità è non generare allarme, la presenza di soldati in assetto più da guerra che da ordinaria perlustrazione non passa inosservata. Alla stazione di polizia di Bruxelles centrale si minimizza. È tutto sotto controllo, rispondono laconici all'ufficio relazioni con la stampa. Risposte evasive anche alla stazione di polizia di Malbec, comune di Bruxelles, noto perché vi vivevano gli attentatori di Parigi. In questa atmosfera di falsa tranquillità, i turisti, gli unici forze a credere davvero che sia tutto a posto, come sempre affollano la Gran Place. Basta spostarsi a pochi metri dalla stessa, sul viale Le Monnier, per rendersi conto di come il Belgio si ha le prese con una convivenza con altre culture che non sempre ha saputo gestire. Il dato dal quale si parte è che il processo di islamizzazione di Bruxelles, pur avendo radici antiche, come il fenomeno migratorio dal Nord Africa verso il Belgio, è andato molto avanti soprattutto negli ultimi dieci anni. Arabi sono i negozi di alimentari che spongono l'insegna dei cibi alal, cioè consentiti dal Corano. Nord africane le macellerie che a loro volta vendono carni macellate secondo il rito islamico. Improntate allo studio dell'arabo e del Corano sono pure le librerie. Le Monnier Ma nessuno risponde al campanello. I giornalisti qui sono passati fin troppo dopo l'arresto di Abdeslam, dunque tutti sanno facilmente riconoscerli e di conseguenza evitarli. Non c'è bisogno di allontanarsi troppo dal centro, neanche per arrivare a Molenbeck, il famigerato quartiere dal quale sono partiti gli attentatori di Parigi. I fratelli Abdeslam assieme a colui che è considerato il loro reclutatore, Abbaoud. Chi immagina una banlie piena di emarginati in stile parigino sbaglia di grosso. Molenbeck è un quartiere pulito, dignitoso, che però non è riuscito ad attirare quella classe media sulla quale la politica belga intendeva puntare. Il tasso di disoccupazione è alto, l'integrazione scolastica non funziona. Esistono sacche di povertà materiale e chi progredisce nella scala sociale cerca di andare via. La comunità marocchina è la più numerosa. La presenza di marocchini è di vecchia data, poiché manodopera dal Nord Africa fu attirata dallo stesso re negli anni in cui l'economia nazionale si basava soprattutto sull'estrazione mineraria. Per questo i giovani, sia quelli per bene e desiderosi di lavorare, sia gli attentatori, appartengono alla cosiddetta terza generazione. Anche e soprattutto a Molenbeck la gente non ha voglia di ricordare. Voi giornalisti dovete smettere di parlare male di chi vive qui, dice un signore di una certa età. La gente è ormai stufa della stampa. In troppi si sono sentiti accomunati ad una minoranza che ha deciso di votarsi al Jihad. Ma non si può certo fingere che nulla sia successo e che nessuno sia partito da Molenbeck per destabilizzare l'Europa. Il rio de Quatrevon, al numero 79, la casa dove sarà Abdeslam, unico attentatore rimasto in vita dopo gli attacchi suicidi a Parigi, è stato arrestato, che partiamo per capire meglio questa municipalità tanto controversa. Un ragazzo che accetta di farci da guida, solo se resterà nell'anonimato, ci parla di come avviene l'indottrinamento. Ci porta a vedere, a pochi passi dalla casa del terrorista, un edificio che non rega alcuna insegna. Una sorta di garage dipinto di bianco. È uno dei centri di preghiera e culturali islamici, che spesso finiscono nelle polemiche, perché non si capisce che tipo di islam vi si predichi e che sovente non hanno le autorizzazioni necessarie alla loro stessa esistenza. Un uomo ci intima di allontanarci mentre filmiamo. Ma il meccanismo dell'indottrinamento, ci viene spiegato meglio, non passa solo per le moschee. Almeno a Molenbeck passa per il supermercato. Tutti i terroristi che sono stati coinvolti negli attentati di Parigi, particolarmente, ma anche di Bruxelles, si tratta di persone con alle spalle un percorso criminale. Non di per sé grossa criminalità, spesso era un percorso di criminalità di strada o legato al consumo e allo spaccio di stupefacenti, come i fratelli Abdeslam. Prima di essere terroristi, loro avevano un caffè alla Rio de Begin, dove si vendeva, si spacciava cannabis, un caffè che era stato d'altronde chiuso o anche dal sindaco per spaccio di stupefacenti. Abba Hood, un po' la stessa storia, Abba Hood era un giovane uomo conosciuto dai servizi della polizia perché aveva un passato di piccolo criminale. Quindi quello che noi notiamo per quanto riguarda gli aspetti terroristici, c'è sicuramente un filo rosso rispetto a questo legame fra criminalità di un certo tipo e terrorismo ed è un punto sul quale bisognerà probabilmente fare un po' più di ricerche e capirlo un po' di più. Quelli che partono in Siria invece il profilo è un po' più vario. C'è in effetti chi è partito in Siria per sfuggire a una pena di prigione, c'è chi è partito in Siria soprattutto all'inizio del conflitto nel 2013 per una questione di adessione ideologica, perché li devono veramente andare a fare qualcosa di buono che stanno lottando contro Assad. Ci sono quelli che partono perché non hanno niente da perdere, perché non si fanno costruire un profilo, non si possono più costruire un futuro qui. Quindi quelli che partono in Siria diciamo il profilo è un po' più diverso, più vario. Quello che noi abbiamo potuto ricostruire fino ad ora mostra che l'indettrinamento non si fa nelle moschee ma spesso per strada. Ci sono quelli che chiamano di ricruttore che vanno a cercare il profilo spesso di giovani o adulti, giovani con in realtà un percorso biografico particolarmente difficile e vengono cercate nello spazio pubblico e spesso tutto il processo di indettrinamento si fa via internet. C'è stato un caso, due casi di due donne che sono partite in Siria che avevano in effetti seguito dei corsi di Islam alla grande moschea di Bruxelles che praticamente la grande moschea di Bruxelles si trova nel parco di San Cantero a due passi delle istituzioni europee ed era un pezzo di terreno che il re Baldovino aveva regalato all'Arabia Saudita dopo un grande incendio, fino agli anni 60 in un grande negozio qui a Bruxelles. L'Arabia Saudita all'epoca aveva aiutato le vittime e in ricambio per ringraziarlo avevano regalato questo terreno. E' già da anni che si discute sul tipo di religione o di interpretazione dell'Islam che viene diffuso dalla grande moschea di Bruxelles. Se a Molenbeck le moschea sembrano dunque avere avuto un peso relativo nella questione dell'indottrinamento, la vera e grande imputata nella diffusione di un Islam violento ed estremo è la grande moschea di Bruxelles. Da qui, come conferma anche un rapporto dell'OCAM, organo di coordinamento del governo belga, parte la predicazione delle idee improntate al salafismo. Il comune di Molenbeck cerca come può di intervenire, ma la situazione è difficile. Di fronte a tutto ciò le politiche delle istituzioni europee appaiono drammaticamente insufficienti. I loro rappresentanti somigliano a struzzi che hanno ormai messo la testa sotto la terra, simili alle statue costruite a pochi metri dal Parlamento europeo.